Sono scesi in campo nel nome di Giacomo Nalon, un bambino di 9 anni morto lo scorso gennaio a causa di un neuroblastoma, aggressivo tumore delle cellule del sistema nervoso. A sfidarsi sul campo di San Giorgio delle Pertiche la Nazionale Calcio TV e i Lions and Jack's Friends, partita finita in pareggio davanti a 4.000 persone e tantissimi ragazzi, centrato anche l'obiettivo raccolta fondi. Destinazione Città della Speranza è stato infatti staccato un assegno di 125.000 euro che sarà devoluto proprio un progetto di ricerca sul neuroblastoma infantile, uno dei più frequenti tumori pediatrici.